La Corte Suprema degli Stati Uniti salva la riforma sanitaria di Obama ma sferra un duro colpo alle adozioni delle famiglie Arcobaleno, sconfitte dall'opposizione di associazioni religiose. Irene Fioretti. Un'agenzia cattolica può rifiutare l'affidamento di un bambino ad una coppia LGBT. Così ha stabilito la Corte Suprema Americana che ha votato compatta contro la decisione delle autorità di Filadelfia di sospendere una delle 30 organizzazioni cittadine affiliata all'Arci di Ocesi e attiva nel campo delle adozioni perché non accettava le coppie gay come idonee all'affidamento di minori. Secondo i giudici dell'Alta Corte infatti un'agenzia di adozione è libera di agire seguendo le proprie convinzioni religiose in base al primo emendamento della Costituzione. Una sentenza che fa già discutere. Le autorità di Filadelfia avevano chiesto a tutte le organizzazioni nel campo delle adozioni di non usare politiche discriminatorie in ambito di sesso, etnia e religione e dopo un rifiuto avevano smesso di indirizzare i bambini ai servizi sociali cattolici che si erano quindi rivolti al tribunale. Per le associazioni LGBT una sconfitta nell'affermazione di un diritto garantito in questo caso solo a coppie eterosessuali. Un sospiro di sollievo invece per milioni di americani sull'assistenza sanitaria salva l'Obamacare, la legge che ha esteso la copertura a una più ampia fascia della popolazione per decisione dell'Alta Corte che ha respinto per la terza volta il ricorso repubblicano. Grazie a tutti.